dicono che c'è un nuovo burger in città in new york zona colonna di san lorenzo milano da america andiamo a spaccarlo si dai diretti bravo bene siamo qua con ivan proprietario di america siamo qua per mangiare cosa è il new york burger bello tosto ti voglio ricordare che sono 300 grammi di fassona piemontese solo di carne sono 300 grammi ok abbiamo il bacon croccante white cheddar il nostro pane e la super salsa thousand island e poi iniziamo la challenge perfetto ci beviamo prima la bierla l'aspettiamo assolutamente ci siamo via a quanto siamo già ci siamo già New York Burger Challenge finita Qui da Americas 4 minuti e 27 secondi Provate a battermi Questa è la sfida che vi lancio Non mollate